capitolo 13 ero seduta su una sedia da giardino a mangiare un toast e a leggere una rivista quando mia madre uscì e si unì a me aveva un'espressione seria determinata di quelle che mostrava quando voleva cominciare una discussione tra madre e figlia temevo quelle discussioni quanto il ciclo mestruale che fai mi chiese con aria distratta mi infila il resto del toast in bocca mangio forse potresti iniziare a fare i compiti per le vacanze proseguì allungando una mano per togliermi le briciole dal mento ma in effetti ci avevo pensato risposi anche se non era vero mia madre si schiarì la gola conrad si droga mi chiese che cosa conrad si droga per poco non rimasi strozzata no e poi perché lo domandi a me conrad non si confida con me domandalo a steven l'ho già fatto non lo sa non mi mentirebbe mi disse scrutandomi beh neppure io mia madre sospirò lo so bec è preoccupata conrad si comporta in modo strano ha lasciato il football io ho lasciato la danza replicai alzando gli occhi al cielo e non mi pare di andare in giro a fumare crack mia madre increspò le labbra mi prometti di venire a riferirmelo se vieni a sapere qualcosa non lo so scherzai non c'era bisogno di prometterglielo sapevo che conrad non si drogava bere una birra era una cosa ma non avrebbe mai preso droghe ci avrei scommesso la testa belli è una cosa seria ma ma rilassati non si droga e poi senti chi parla da quando in qua sei diventata proibizionista le sedia di di gomito in maniera scherzosa lei trattenne un sorriso e scosse